eccoci mentre stiamo andando in macchina con un lignaro passeggero ad incontrare tre nostri amici di un altro team che lo stanno aspettando imbuscati lignaro passeggero viene messo a terra a questo punto ci riuniamo con i nostri amici e facciamo un team da tre passiamo a cinque lignaro passeggero è lì a terra che chiede aiuto e a questo punto magnanimi decidiamo di aiutarlo lo sto lasciando raga pronti 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 3 2 1 vai seccatelo dopo cinque caricatori svuotati sul suo povero corpo inerme compiamo la nostra missione di trollare questa povera anima pace a lui